Un caro saluto a tutti e benvenuti in nostra compagnia. Stadio Franchi, sesta di ritorno. Abbiamo fatto dieci punti nelle prime cinque parite del girone di ritorno. All'andata dopo le prime cinque parite del girone di ritorno ne avevamo fatti sei. La speranza è di fare punti a Firenze. Gigio, Gigio ha rischiato di perdere palla. Ha perso palla, ha perso palla, ho paura. Il tiro alto. Ancora Castieco che mette in mezzo. Il colpo di testa di Remic, la parata di Dragowski. Non c'era fuori gioco. Cosa abbiamo lasciato? Splendida parabola di Castieco. Ecco Ben Nasser che dà la palla a Ciala. C'è campo per noi. A Can Cialanoglu, c'è campo per noi. Ecco a Can che va a dare colpo di tacco. Bravissimo ad Ante Remic, c'era in difficoltà. Cialanoglu è stato bravissimo. Il cross di Ante, la deviazione. Ibra, Ibra recupera la palla. Zlatan, Zlatan, prova ad andare. Zlatan, Zlatan. È una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa. È successa una cosa meravigliosa nella nostra vita. Un gol Z punto. Ibra. Ibra. Non ci credo. Non ci credo, Z punto. Benvenuti nel regno di Ibra. No, non mi annullate questo. No, ma non l'ha presa col braccio, con il petto, vi prego. No. 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 Ma no. Ma annullare una cosa così, ragazzi, no. Deve uscire Gigio. Questa non è una buona notizia, Gigione. Entra Asmir Begovic che fa il suo esordio nel Milan. Chiamato a dare una mano. Gigio ha stretto i denti, ci ha provato, ma ancora male. Ancora lunga l'azione del Milan. Ciala, Ciala, Ciala. Avanza Ciala. Ecco Ciala che va al cross. Un buon cross, ma la palla è loro. Remic. Goal! L'abbiamo fatto ante ante. L'abbiamo fatto ante ante. Uno a zero per noi. Uno a zero per noi. Uno a zero per noi. E segna sempre ante. Questo è l'hashtag. SSA maiuscole. segna sempre a no. No, adesso no. Adesso cominciano. Cominciano. Non ti fanno mai... Aspetta a esultare. Su, ma stai zitto. Aspetta a esultare che adesso trovano il modo di annullarti anche questo. Va, Cialanoglu. Dentro per Teo Hernandez. Punta e ne basta, Teo. Punta e ne basta, Teo. Ecco un z-ta punto. Ehi, fallo. Fallo di Dalbert. Fallo di Dalbert. Giallo. Giallo per Dalbert. Il rosso ha Dalbert. Non possiamo regalare un tre contro tre. Viola, ho paura. Ho paura. Ho paura. Ho paura. Fuori. Recupera e va Vlaubic. Attenzione ragazzi, vi prego. Calcio di riguardo. Gol di Pulgar. L'aveva presa Vekovic. Ah, peccato Vekovic. L'aveva presa. Rilancio lungo Viola. Ecco ancora Cutrone. Cutrone può metterla in mezzo. La grande palata di Vekovic e la palla alta di Vlaubic. Abbiamo buttato via tre punti ragazzi. Abbiamo buttato via tre punti. Non abbiamo opposto nulla alla rabbia di Cutrone. Siamo noi che dovevamo 1-0 in dieci uomini gestire meglio, reagire meglio e condurre meglio in porto questa partita. Grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.